Sono tornati in azione dopo appena 24 ore i ladri di catalizzatori, stavolta mettendo a segno un doppio colpo. Nel mirino dei delinquenti è ancora sistema ambiente che, dopo i 17 mezzi danneggiati la scorsa notte nella sede di Borgo Giannotti, conta altri 4 camioncini manomessi, di cui uno appena riparato, al centro di raccolta di nave. Nel corso della notte si sono introdotti qui nello stabilimento di nave, dove abbiamo l'officina, e hanno tagliato alla stessa maniera la parte della marmitta, dove sono presenti i metalli nobili, e quindi la parte catalitica, tagliando con la mola elettrica, si immagina, la parte interessata. E quindi si sono introdotti, stiamo visionando ora le registrazioni video per riuscire a capire se ci sono informazioni utili alla questura. Però supponiamo che si siano introdotti dalla parte perimetrale, dove non ci sono registrazioni o telecamere di controllo. Si pensa che sia attribuibile ai medesimi autori il ride nella vicina officina della Serchio Motori, sulla via Sarzanese, dove sono state tagliate, sempre con la mola elettrica, le marmitte catalitiche a sette vetture, tre all'esterno e quattro all'interno della concessionaria, che, come la municipalizzata, non è nuova a questo tipo di furti. Ecco il prezioso catalizzatore, i cui metalli rari, platino, palladio e rodio, valgono dieci volte di più dell'oro. Un danno di circa 800 euro a mezzo per sistema ambiente, a cui si aggiunge anche la difficoltà di garantire il servizio con un parco mezzi decimato. Stiamo cercando di recuperare con i mezzi disponibili, abbiamo allertato le utenze che ci saranno dei piccoli servizi, però stiamo cercando di recuperare il quanto possibile.